Al termine di una complessa attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Cosenza, i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, codiati dall'Arma Territoriale, questa mattina a Cosenza, Rende e Apriliano, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di una somma di denaro di quasi 64 mila euro per reati di truffa a danno dello Stato, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, ricettazione in debito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, più sette decreti di perquisizione locale e personale emessi dalla Procura della Repubblica della città Abruzzia nei confronti di altrettanti indagati. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria scaturiscono dall'esito di un'indagine svolta dai caribinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Cosenza avviata lo scorso mese di aprile nei confronti di uno funzionario della direzione regionale Musei Calabria del Ministero della Cultura in pensione da gennaio scorso, che attestando il falso nella documentazione da lui redatta e sottoscritta in qualità di responsabile del servizio di approvvigionamento dei buoni pasto tra il 2021 e il 2022 sarebbe riuscito a far accreditare cospicue somme di denaro sotto forma di buoni su 18 schede elettroniche intestate a dignari dipendenti della medesima direzione regionale Musei in servizio presso altre articolazioni da essa dipendenti dislocati in diverse località della regione Calabria, che non avevano diritto al beneficio e in alcuni casi erano addirittura in pensione da molti mesi Grazie� ai Grazie a tutti